Ciao ragazzi, chiedete scusa a Gianpaolo, è ora! Siete dei morti viventi, siete degli zombie, per voi è Halloween tutto l'anno, voi vi dovete mascherare da Halloween tutto l'anno! Mamma mia ragazzi! Ma, oh no raga, 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 cioè veramente ma ce la fate a salvarvi, cioè io ogni volta dico, avete vinto l'altra volta con la SPAL per il rotto della cuffia in casa 1-0, oggi dico, non avevate neanche giocato malaccio perché il Milan non ha neanche fatto così schifo oggi, però giocate bene e perdete, giocate male e perdete, sesta sconfitta in 11 partite, ma cosa vi siete presentati a fare? Cosa vi siete presentati a fare? La cura a pioli funziona, eh? Ah, la cura a pioli funziona! Va benissimo! Chiedete scusa a Gianpaolo, al vero maestro, Gianpaolo il maestro di calcio, chiedete scusa Giampi, avete infamato Gianpaolo, è arrivato uno, fa peggio, infamate Suso, fa gol, cioè tutto quello che dite voi succede il contrario, non capite un cazzo, veramente, non capite un cazzo, un cazzo! Adesso ragazzi andiamo tutti su Instagram, tutti, tutti nella pagina del Milan, nel profilo del Milan e nel profilo anche del Ras della Fossa a scrivere chiedete scusa a Gianpaolo, chiedete scusa a Gianpaolo! Ma il rottumaggio? No, il rottumaggio quest'anno non si fa, non si fa per manifesta inferiorità, loro all'inizio l'avevano proposto, facciamo il rottumaggio, non si fa per manifesta inferiorità, manifesta inferiorità, io non me la sento, non me la sento perché veramente... Ma che giocatori avete? Ma che giocatori avete? Calabria, Calabria, gladiatore giallorosso che me l'hai fatto prendere al fantacalcio, Calabria, ma Calabria nel Civitella di Romagna, che fa la prima categoria ed è anche in crisi di risultati, non gioca Calabria, il Civitella che sta andando male non lo fanno giocare, nel Fosso Ghiaia, Calabria nel Fosso Ghiaia, non gioca, non gioca, non gioca, ma vi rende, madonna, siete veramente qualcosa di... avete i punti dell'Udinese, avete i punti dell'Udinese, avete speso una barca di soldi anche quest'anno, perché comunque avete speso i vostri soldi anche quest'anno per far sta roba qui, il Milan e i milanisti, il Milan e i milanisti, il Milan e pure i milanisti, Boba dei Maldini non sono due milanisti, e pure i milanisti, il Milan e i milanisti, mamma mia ragazzi, mamma mia, cioè io stasera ero qui, uno dice cosa fai dei video a fare, adesso vai a letto, finisce 1-1, tracca alla fine i gol della lascia, mi tocca, mi tocca fare il video per percularvi, mi tocca, mi tocca, perché io come faccio in una situazione del genere a non percularvi, è più forte di me, è più forte di me, vi devo perculare, alla prossima contro chi siete? Alla prossima se non sbaccia Juve e Milan, giocate con la Juve, la prossima settimana, ve lo prometto, tifo per voi, solo la prossima settimana, ma la prossima settimana contro i Gobbi, tifo per voi, prossima settimana, solo la prossima settimana, iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 numero 10, canale YouTube numero 10, obiettivo 50.000, cioè te numero 10 con Luca Mastrangelo, facciamo dei numeri che, numero 10 con me ha trovato l'America, avete trovato l'America e voi di numero 10? Senza sapevo, non lo sapevate, poi andiamo tutti su Instagram che dobbiamo prendere per il culo quelli là, ciao!